200 ginnaste appartenenti a 33 nazioni diverse sono attese a Pesaro per le gare della tappa italiana della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Torna infatti in città l'appuntamento con il meglio di questa disciplina olimpionica che vedrà le ginnaste gareggiare sulle pedane dell'Adriatic Arena per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi. L'evento è previsto dal 7 al 9 aprile mentre l'11 e il 12 sarà la volta del torneo internazionale città di Pesaro che vedrà la partecipazione di 23 nazioni. 8 edizioni alle spalle e un appuntamento che si rinnoverà fino al 2019 rappresentando così un ottimo biglietto da visita per il nostro territorio e confermando l'astronave come contenitore polifunzionale capace di ospitare eventi internazionali prestigiosi. La Coppa del Mondo è sempre tanto importante, adesso poi come mai perché con il nuovo regolamento sono solamente quattro tappe, prima erano addirittura dieci e essere rientrati come organizzazione nelle quattro tappe per noi è un grande risultato. Ci saranno le ginnaste migliori del mondo del momento, la nostra squadra italiana, le farfalle, oltretutto avremo il torneo internazionale la settimana dopo, l'11 e il 12 con ingresso gratuito. Saranno dunque giornate tanto importanti quanto impegnative in vista anche dei prossimi festeggiamenti per i 150 anni di vita della Federazione Ginnastica Italiana.